Sì, a zero! Dopo qua devo venire a farne uno l'uovo lì in alto Let's get! Vai! 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 E' un po' 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 un torniamo indietro no problem ci mancherebbe anche siamo siamo in esplorazione tranquillo grazie dobbiamo tornare giù da qua dobbiamo scendere dobbiamo scendere dobbiamo scendere perché c'è lì i bambini i cani i nonni ci sono di tutti lì avanti che ci sono già lecate quindi scendiamo qua avanti scendiamo di nuovo no no scendi da lì avanti c'è il sentiero vai lì avanti dobbiamo scendere perché l'avanti c'è dai bimbi cani nonni c'era tutti noi nonni e cani bambini qua avanti c'è il sentiero scendiamo da lì scendi qua si qua passa una marea di gente però la sei già le case quindi dobbiamo stare in quella valletta qua